ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video nei tutorial dei sonoff uno dei più riusciti e quello per le tapparelle poi non ho fatto più di uno la domanda più ricorrente massi come faccio a fare un comando per abbassare o alzare tutte le tapparelle insieme a livello vocale ma anche come faccio a mettere proprio un comando fisico per gestirle tutte insieme e allora ho deciso di fare un video un fuori programma in barba tutte le scalette video in ritardo che ho da fare ma non importa quando vedo che le domande sono ricorrenti allora vale la pena approfondire il discorso quindi adesso vi faccio vedere come gestire l'installazione di un sonoff per comandare tutte le tapparelle ma anche come è possibile farlo senza installarlo quindi procuriamoci un altro dual r3 lite normale perché servirà per comandare tutte le tapparelle e procuriamoci anche un comando meccanico un doppio pulsante un commutatore quello che volete funziona uguale l'importante seguire bene tutta la procedura decidiamo quindi di aggiungere il nostro comando centralizzato come si collega in questo modo allora dovete solo alimentarlo quindi neutro e fase in ingresso la stessa fase i due morsetti e le in sono in parallelo la portate al centrale del vostro commutatore saliscendi doppio pulsante quello che sia non cambia nulla usarlo così in versione pulsante o usarlo in versione quello che rimane in posizione portate la fase al centrale se non è già ponticellata internamente fate il ponticello sui centrali le due fasi in uscita le portate s1 s2 fine in uscita sul dual non collegate nulla potrebbe essere un dual r3 normale come questo ma può essere tranquillamente anche un dual light potrebbe essere anche una placca sonoff potrebbe essere tutto quello che volete l'importante che sia un unico dispositivo con due comandi almeno perché quei due comandi quando attivati adesso vi faccio vedere come vanno a lavorare da qui in poi è tutta una questione di applicazione quindi andiamo in ewe link vedete che qui ho già ricreato una zona tapparelle dove ho tappare la bagno tappare la cucina tappare la sala possono essere una due tre come 15 nel procedimento è uguale aggiungiamo questo nuovo dispositivo in modalità copiamento bluetooth andiamo avanti viene trovato lo connettiamo lo connettiamo alla nostra rete trova immediatamente il dispositivo lo chiamiamo comando centralizzato dove lo mettiamo in questo caso lo metto nella stessa zona che ho creato apposta per farvi capire che è la zona tapparelle completato quindi io all'interno della mia automazione domestica troverò le tre tapparelle bagno sala cucina e un comando centralizzato chiaramente questi tre dispositivi tappare la devono essere già configurati già tarati già calibrati già funzionanti come abbiamo visto in tutti gli altri tutorial cosa facciamo ora entriamo nel comando centralizzato che in questo caso essendo un dual r3 mi chiede se lavorare in modalità motore interruttore o misuratore e deve essere interruttore salviamo qui abbiamo canale 1 canale 2 andiamo immediatamente qua nel nome a cambiare il nome dei canali canale 1 lo chiamiamo salita il canale 2 lo chiamiamo discesa ok così li distinguiamo poi dobbiamo dirgli che questo qua è un pulsante e non è un commutatore andiamo in modalità di lavoro modalità di attivazione esterna gli diciamo che salita è un modalità impulso discesa è un modalità impulso salviamo fosse stato un commutatore potevamo tranquillamente lasciare interruttore andava bene lo stesso ora dobbiamo attivare anche l'inching quindi andiamo sui due canali gli diamo anche solo un secondo entrambi i canali e abbiamo finito con la sua configurazione quindi questo funzionerà da interruttore poi dopo un secondo si spegne questo è il suo collegamento filare e la sua impostazione come dispositivo basta a questo punto potete rimontare tutto chiudere la scatola dove avete messo questo comando ma vi consiglio di fare prima delle prove perché potrebbe essere necessario girarlo contrario se non azzeccate salita discesa fatto questo noi dobbiamo andare a creare una scena andiamo in scena costruisci ora e cosa gli diciamo gli diciamo che se dispositivo intelligente comando centralizzato la salita va in on allora cosa fa quando io premo salita lui mi deve far salire tutte le tapparelle tutte quante o tutte quelle che voglio quindi poi aggiungi dispositivo intelligente tappare la bagno apri così la apre tutta col comando chiudi la chiude tutta col percentuale di apertura possiamo decidere dove portarla ma noi in questo caso facciamo apri tutta poi la stessa cosa me la fai su tapparella cucina la stessa cosa me la fai su tapparella sala quando io attivo il comando salita che dopo un secondo tra l'altro si disattiva quindi mi lascia il dispositivo libero mi fa salire tutte le tapparelle insieme questa scena può funzionare sempre o potete addirittura decidere un periodo effettivo nel quale deve funzionare quindi andando in custom possiamo decidere che magari questo comando centralizzato deve funzionare solo dalle 7 di mattina alle 8 di mattina per qualsivoglia motivo oppure si lascia h24 e funzionerà sempre lo salviamo lo chiamiamo salita centralizzata voilà abbiamo creato il comando manuale per la salita di tutte le tapparelle completato ora facciamo la discesa se dispositivo intelligente comando centralizzato discesa on poi dispositivo intelligente tapparella bagno chiudi dispositivo intelligente tapparella cucina chiudi dispositivo intelligente tapparella sala chiudi lo salviamo lo chiamiamo discesa centralizzata quindi in tutte le nostre automazioni abbiamo discesa centralizzata che me le fa scendere tutte salita centralizzata che me le fa salire tutte questa è la semplicissima procedura per installare fisicamente un comando per comandarle tutte insieme e come gestirle a livello di app ma come vi dicevo prima potremmo farlo anche con ad esempio un tx quindi cosa facciamo andiamo a creare un'altra scena costruisci se dispositivo intelligente e andiamo a prendere il mio tx led che ha due canali se il canale 1 vai non e la salviamo allora aggiungi dispositivo intelligente vado a prendermi tapparella bagno apri tapparella cucina apri tapparella sala apri ho fatto la stessa cosa ma anziché installare un dual con un comando meccanico potrei usare anche una placca tx e vi faccio vedere invece come gestirle ad esempio con i comandi vocali con o senza un dispositivo col comando fisico che sia un dual o una placca tx possiamo anche gestire l'apertura la chiusura di tutte le tapparelle con un comando vocale una routine di alexa quindi routine nuova quando ad esempio quando a voce diciamo apri tutto avanti alexa eseguirà le seguenti azioni casa intelligente tutti i dispositivi andiamo a cercarci le nostre tapparelle tapparella sala e dobbiamo prendere il curtain ricordatevi quindi partiamo da tapparella bagno curtain non serve a rinominarlo perché comunque lavora tutto in una routine la spiegazione del rinominare tutto l'avevo fatta nel video del dual r3 con le tapparelle nel cassone in questo caso gli diciamo che deve aprire tutto 100% avanti oltre a tapparella bagno curtain deve fare anche casa intelligente tutti i dispositivi tapparella cucina curtain cosa fa la apre tutta poi deve fare ancora la sala casa intelligente tutti i dispositivi la sala curtain cosa deve fare la apre tutta qual comando vocale apri tutto lui mi apre tutte le tapparelle potremmo anche decidere di aprire solo a metà di lasciare solo le filure lì ve lo giocate con i percentuali poi chiaramente non sto a farvelo vedere ma bisogna fare se volete non è obbligatorio anche il comando vocale per chiuderle tutte in questo modo aggiungendo un comando fisico uguale a quelli che avete già è un 2 r3 le comandate in salita in discesa tutte insieme attenzione perché non si riesce a interbloccare il comando a meno che non prendete già un commutatore interbloccato quindi o fate su o fate giù non potete farli contemporaneamente se prendete un doppio pulsante o un comando non interbloccato ricordatevi solo di non pigiarli insieme o mentre le tapparelle stanno facendo il ciclo perché fate un casino l'ideale sarebbe averlo interbloccato così non vi potete sbagliare anche se è interbloccato se per caso fate la salita centralizzata mentre stanno ancora salendo fate la discesa centralizzata non è proprio il massimo quindi bisogna anche scendere a dei compromessi sono delle situazioni dove riusciamo a domotizzare tutte le tapparelle in modo fai da te è molto economico bisogna mettere in conto anche queste cose però funziona bene un comando stabile chiaramente una scena quindi funziona solo se c'è internet o eventualmente se comprate la iost e vi fate le scene locali ma come sapete non lo amo per nulla diciamo che anche se non c'è internet e non avete il comando centralizzato riusciremo a sopravvivere lo stesso se vi è piaciuto il video un bel like soprattutto non costa nulla iscrivetevi al canale così mi fate venire voglia di vedere i numeri che salgono e di fare sempre più video scherzo i video andranno avanti lo stesso penso che non mi fermerò mai finché ce la faccio ci vediamo al prossimo video prossima diretta o se passate il negozio vi offro un caffè ciao da massidattoli ciao